Vogliamo leggere in questa mattina Ebrei 12, capitolo 12, dal versetto 1 al versetto 16. Amen. Perseveranza in mezzo alle prove ad esempio di Cristo. Ebrei, capitolo 12. Anche noi dunque, essendo circondati con una tale nuvola di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale per la gioia che gli era posta davanti soffrì la croce, disprezzando il vituperio e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Ora considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate e veniate meno. Voi non avete ancora resistito fino al sangue combattendo contro il peccato e avete dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come ai figli. Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non perderti d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Se voi sostenete la correzione, Dio vi tratta come figli. Qual è infatti il figlio che il padre non corregga? Ma se rimanete senza correzione, di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli. Inoltre, ben abbiamo avuto per correttori i nostri padri, secondo la carne, e l'abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo molto più ora al padre degli spiriti per vivere? Costoro, infatti, ci corressero per pochi giorni, come sembrava loro bene, ma egli ci corregge per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità. Ogni correzione, infatti, sul momento non sembra essere motivo di gioia, ma di tristezza, dopo però, rende un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati esercitati per mezzo suo. Perciò rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti e fate dei sentieri diritti per i vostri piedi, affinché ciò che è zoppo non diventa slogato, ma sia piuttosto risanato. Procacciate la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore, badando bene che nessuno rimanga privo della grazia di Dio e che non spunti alcuna radice di amarezza che vi dia molestia e attraverso la quale molti vengano contaminati e non vi sia alcun fornicatorio profano come Esaù che per una vivanda vendette il suo diritto di primogenitura. Amen. Qui l'Apostolo Paolo inizia parlando di una gara e paragona quindi il nostro correre, il camminare nella fede è come una gara, come una corsa, no? E quali sono le caratteristiche di una persona che corre, no? Io quando ero ragazza alle scuole c'erano le attività fisiche, no? E io facevo la corsa campestre, ero in lungo, no? E nella resistenza, no? E ho fatto diverse gare e ho anche vinto alcune medaglie, no? E mentre io correvo, no? Io mi ricordo che quando io correvo tutto il corpo viene coinvolto la mente, le braccia, no? Tutto il corpo viene coinvolto e c'è in un momento in cui mentre tu corri tu praticamente anche se è freddo io mi ricordo che si correva anche d'inverno, no? Ci facevano fare le gare però il corpo quando è in movimento si riscalda quindi te non hai freddo nel corpo mentre tu ti stai muovendo, no? Ma la faccia è scoperta e qui hai freddo perché ti viene tutto il vento davanti mi ricordo che mi lacrimava il naso, mi sciva di tutto e di più e non vedevo nulla ma se io poco poco mi giravo a destra e a sinistra perdevo quel ritmo di andare avanti quindi nel mio intimo c'era magari il mio desiderio di vedere ma magari c'è la mia mamma che mi guarda magari ci sono i miei amici che mi fanno il tifo ma io se lo facevo perdevo il ritmo quindi io se volevo raggiungere l'obiettivo del traguardo io dovevo rimanere concentrata col mio corpo con tutto il mio fisico lì nella corsa, nella riga e guardare qual era il traguardo fino a che vedere quanto tempo ancora avevo di stare lì correndo, no? E poi arrivi a un certo punto che mentre corri tu senti la tua mente, il tuo corpo che non ce la fa più incomincia a farti male ai polpacci incomincia a non avere più il fiato e tu senti nell'interiore non ce la fa, non ce la fa è successo mai qualcuno? c'è qualcuno che fa footing qui, che corre non ce la fa, non c'è più fiato e ora, e ora e senti il cuore boom, 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 boom e adesso, e adesso e arriva a un certo punto boom, che si rompe il fiato e il tuo corpo inizia nella respirazione corretta nel perseguire la strada inizia ad acquisire quel corretto ossigeno che serve a tutta la muscolatura e a tutto il tuo corpo per continuare alla meta e a un certo punto tu senti che ce la fai e allora lì l'entusiasmo ancora aumenta e acquisisci tutta la pienezza del controllo del tuo corpo per raggiungere la meta quindi c'è un inizio dove tu guardi e dici mamma mia tutto quello devo fare io e solamente a vederlo non sai se partire o non partire ma quando parti perché ti lanci perché vuoi correre perché vuoi raggiungere nel momento che tu parti e corri c'è un obiettivo e allora è lì dove c'è quella gara è lì dove l'apostolo Paolo dice com'è che fai la tua corsa com'è che tu corri è lì che andremo a vedere in questa mattina no? e dice nel versetto 1 deposto ogni peso porta al trono alla preghiera alla presenza di Dio se tu oggi c'hai dei pesi se tu oggi ti senti che sei stanco dice venite a me coloro che sono affaticati e stanchi porta quella pesantezza che non ti permette di correre ai piedi di Dio non sei solo Dio è con te ma soprattutto Dio è in te ma tu che decisione vuoi prendere? vuoi correre la corsa? vogliamo correre la corsa? e sta lì che quella decisione rimane così ferma dentro di te che nel correre tu dici signore io non so questa circostanza e questa situazione la getto a te la metto a te non lo voglio fare con le mie forze con quello che io so come ho fatto finora ma io desidero che sia tu a poter far sì di intervenire in questa situazione per poter andare avanti io non sono capace nella esperienza in quello che io posso sapere ma sì la tua parola mi fortifica ma sì io so dentro di me che tu sei con me e tu lo puoi fare attraverso di me ma io voglio correre quella corsa è quella decisione che ti mantiene saldo perseverante costante sotto sforzo dove non c'hai più fiato dove a volte non so se avete visto no? ma c'è proprio un momento in cui le forze ti vengano meno ma se tu nel tuo interiore dici io voglio correre io voglio io voglio correre la fede io voglio e getto il peso su di te allora lì non camminerai sola lì sarà lo Spirito Santo che ti fortifica lì il Signore ti darà la parola giusta per rinnovarti per fortificarti per guidarti per ammaestrarti per darti sapienza per uscire come diceva Pastor Monica da quella situazione in vittoria amén getta il tuo peso su Gesù amén e dici il peccato il peccato sta allettandoci no? no? e mi ricordo appunto io guardavo la mia mamma c'è eh? dove è la mia mamma? i miei amici mi fanno il tifo no? sono sola non vedi nulla perché poi eh? eh perché perché poi la vista ti si annebbia no? allora lì ho capito eh che non dovevo guardare né a destra né a sinistra mi dovevo concentrare in quello che era l'obiettivo in quello che era la gara in quello che era la corsa quindi se c'è qualcosa che vuole distrarti che vuole toglierti le forze che vuole sviarti che vuole permettere che la tua corsa non vada avanti lascia stare guarda dopo non è importante per te in quel momento in questo momento è più importante raggiungere la meta è più importante raggiungere il proposito è più importante raggiungere le promesse per cosa stiamo correndo? per cosa stiamo correndo? stiamo correndo per poter veramente vedere la gloria di Dio nella nostra vita nella famiglia nel posto di lavoro per le persone che ci sono vicine dove tu sei non è un caso come diceva Pastor Monica stamani non è un caso che sei qui oggi non è un caso nel posto di lavoro dove sei non è un caso nella famiglia dove sei non è un caso nel condominio nel posto dove tu abiti non è un caso Dio ti ha dato un chiamato Dio ti ha dato un proposito Dio ti ha dato delle promesse che se tu decidi oggi di voler correre la corsa nella fede verso di Lui tu raggiungerai ossia o sì quel traguardo ossia o sì quella medaglia ossia o sì quella gloria ossia o sì quella salvezza ossia o sì quella restaurazione della famiglia ossia sì quella guarigione perché Cristo già ha vinto tutto quello per cui stiamo correndo lui già lo ha fatto dice che lui è l'autore il compitore della fede così che in verità l'unico sforzo di cui dobbiamo fare è decidere di correre è decidere di non stancarci è decidere di andare avanti è decidere di perseverare è decidere di essere costanti è decidere di essere saldi è decidere di essere fermi è decidere di credere che Lui può amén quindi gettiamo il peso su Gesù non ci facciamo distrarre né a destra né a sinistra e manteniamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti come? tenendo gli occhi dove? su Gesù amén e perché su Gesù? perché Lui come abbiamo appena detto ha già vinto se noi abbiamo il suo esempio se noi conosciamo il suo la sua testimonianza che la possiamo conoscere per coloro che sono nuovi attraverso la sua parola noi allora vediamo che è possibile perché ogni difficoltà ogni malattia che vuole bussare alla porta ogni problema familiare Lui già l'ha vinto Lui ha sofferto la croce per darci a noi libertà per darci a noi guarigione per darci a noi la vittoria quindi il nostro sguardo dove deve essere? su Gesù in alto non guardiamo umanamente perché se io inizio a guardare il mio corpo mentre io sto correndo e non ce la fa non ce la fa perché? perché sono le mie forze che vanno esaurendosi è il mio corpo che va esaurendosi ma se io guardo che Gesù ce l'ha fatta e imparo come Lui desidera e ascolto i Suoi consigli e chiedo allo Spirito Santo che mi sostenga attraverso la Sua parola sì ce la posso fare sì posso arrivare a quel traguardo quindi vuol dire che quando io sento che il mio corpo sta venendo meno è perché sto guardando naturalmente sto guardando a me sto guardando sulle mie capacità sto guardando al mio pensiero sto guardando il mio intendimento sto guardando le mie esperienze sto guardando a me sto guardando la circostanza sto guardando la difficoltà sto guardando la malattia sto guardando l'impossibilità lì sto camminando umanamente naturalmente con ciò che mi circonda ma Vio oggi ci incoraggia a mettere il nostro sguardo e in quel momento in cui tu ti accorgi perché tutti stiamo correndo vuol dire che tutti stiamo lì quando lo decidiamo siamo tutti insieme a fare quella corsa campestre ma qual è la differenza che uno arriva alla vittoria e l'altro no è che nel mentre dov'è il tuo sguardo quindi se nel mentre che stai correndo e senti che sei stanco il tuo corpo viene meno e c'è quel vento che è contrario se tu lì decidi di guardare a Gesù tu sentirai che la sua forza entra dentro di te il suo spirito santo interviene la sua parola ti alimenta la sua parola il suo spirito ti rinnova per far sì che tu continui e mantieni quello sguardo lì sulla meta oggi tutti a fare footing a sperimentare oggi tutti a correre a me versetto 2 tenendo gli occhi su Gesù autore compitore della nostra fede il quale per la gioia che gli era posta davanti soffrì la croce disprezzando il vituperio e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio ha sofferto Gesù per ognuno di noi possiamo soffrire nella corsa nel corpo nel fisico nelle emozioni ma se noi mettiamo lo sguardo su Gesù quella sofferenza viene alleviata dalla sua presenza viene alleviata perché perché guardiamo la vittoria di Gesù cioè che lui già è arrivato a quel finale amén vediamo la fine che Gesù già ha vinto e allora quello ci dà che cosa speranza a noi e ci dà fede di continuare a perseverare perché se noi crediamo che Gesù vive dentro di noi come lo ha fatto lui lo faremo anche noi amén amén ora considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori affinché non vi stanchiate e veniamo e veniate meno quando corriamo quando abbiamo dei principi quando abbiamo dei propositi quando abbiamo delle mette quando abbiamo dei valori dentro di noi lo manifestiamo come abbiamo detto anche nella società anche nel mondo del lavoro anche nel posto dove noi ci troviamo e cos'è che può succedere se siamo diversi non tutti apprezzano o vedano quanto tu sei speciale ma vedano quanto tu sia diverso no? e io mi ricordo che quando ero piccolina va bene avevo dieci anni mio fratello aveva cinque e molte volte per situazione familiare io rimanevo molto spesso sola con mio fratello mio fratello è affetto dalla sindrome di Down e io lo portavo fuori lo accompagnavo a scuola lo riportavo a scuola lo portavo alle attività e nel camminare io potevo sentire quel disprezzo che c'era per la diversità di mio fratello per lei se voi potete dire no eh sì invece eh sì la gente ti guarda da capo ai piedi la gente se è in autobus ora sto parlando di 40 anni fa ok sembro piccina giovane ma c'ho c'ho i miei annetti ma grazie a Dio non seguo il DNA dell'apostolo eh vero vero e e quando io uscivo con mio fratello eh sentivo il disprezzo da parte degli altri si entrava nell'autobus e si alzavano chi era lì nemmeno gli avevo chiesto di farci mettere a sedere no per la difficoltà tu vedi che passi e si scansano tu vedi gli sguardi cosa c'è poi io ero piccolina ero nella formazione 10 12 13 14 anni quindi cos'è che viene dentro di te tu senti quel disprezzo perché sei diverso tu senti quella ingiuria tu senti quel ci 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 eh che comunque anche se non te lo dicono diretto si sente si percepisce si vive quindi cosa c'è cosa cosa viene dentro di te quella amarezza quella frustrazione quella tristezza quella sofferenza no però il signore ha permesso tutto quello perché quando io venissi veramente a Cristo fortificandomi perché io vedevo che mio fratello era eccezionale era migliore con un amore così incondizionato che dico ma magari tu avessi il suo amore forse sì sei normale così dicono ma se tu avessi il suo amore sicuramente saresti tu per prima una una persona migliore quindi io davo il valore a mio fratello di quel che lui era e per me era più importante lui del giudizio degli altri e quindi cos'è che mi ha formato dentro di me ma sai che a me guarda ti forma l'esperienza che tu hai tu forse non lo sai io non conoscevo il signore ma l'esperienza che io ho vissuto nella mia infanzia e che sono sicura vedendo la vedendo la corsa il cammino nella fede che il signore ha permesso tutto quello per tenere sano il mio cuore e fare la differenza in questa società quindi vai a lavorare tu dici che sei cristiano tu sei onesto tu dai delle indicazioni sei trasparente per quello che è e incominciano a prenderti in giro e incominciano a metterti da parte e incominciano invece a promuoverti a poter dire no ma tu non capisci niente no così e mi ricordo che nell'ufficio dove io lavoravo proprio c'era la a me mi avevano messo a fianco di una e lì ero ero credente e io sapevo che il signore mi aveva messo proprio quella benedetta titolare proprio per trasformare il mio carattere perché non mi sopportava e mi trattava davanti agli altri proprio come un cencio e io va bene ok vado avanti e poi dopo cos'è che ti ti dà quella forza quella esperienza che tu hai vissuto nella infanzia nella giovinezza non ti fa fermare a me mi interessava quel lavoro a me mi interessava l'obiettivo di raggiungere quello stipendio a me mi interessava quel posto e a me che lei mi trattava male mi entrava e mi usciva io continuavo a essere me stessa non mi interessava e sapete che dopo il percorso dice no no Daniela tu hai dimostrato mi ha detto la capa di lei no cioè lei mi ha detto no no Daniela io voglio solo te e la capa sua di lei ha detto Daniela tu sei l'unica che ha resistito al suo tiroscinio eh così che ho detto ma non sono io perché se ero io ti dico la verità che avrei risposto in un altro modo ma ringraziamo a Dio che ho conosciuto a lui ed è la pazienza sua che vive dentro di me che mi ha permesso di continuare perseverare amare e guardare che cosa l'obiettivo eh e quindi lì lei praticamente mi ha detto no no tu sei un angelo eh sì proprio lo spirito santo che veramente ha regnato dentro di me allora cos'è che io voglio incoraggiarvi in questa mattina e desidero perché molte volte la nostra esperienza siamo vittima della esperienza e rimaniamo con quella amarezza di quello che abbiamo vissuto nel passato e rimane una esperienza negativa nel passato e oggi vogliamo vivere un'altra vita ma no prendi quella esperienza e mettila nella formazione che Dio l'ha voluto per renderti oggi un corridore per renderti oggi un facitore della parola per renderti oggi un suo servo un suo figlio per far sì di essere quella differenza lì dove sei lì dove sei amèn e poi e non vogliamo dimenticare avendo dimenticato l'esortazione versetto 5 e avendo dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come a figli figlio mio non disprezzare la correzione del signore non perderti d'animo quando sei da lui ripreso perché il signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce se 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 sostenete la correzione Dio vi tratta come figli qual è infatti il figlio che il padre non corregga ma se ma se rimanete senza correzione di cui tutti hanno avuto la loro parte allora siete bastarde non figli verso 9 inoltre ben abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne e li abbiamo rispettati non ci sottometteremo molto di più ora al padre degli spiriti per vivere costoro infatti ci corressero per pochi giorni come sembrava loro bene ma egli ci corregge per il nostro bene affinché siamo partecipi della sua santità ogni correzione infatti sul momento non sembra essere motivo di gioia ma di tristezza dopo però rende un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati esercitati per mezzo suo amèn la correzione molte volte quando si 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 parla di alcune persone che sono sopra di noi come possono essere i nostri genitori le autorità spirituali no la correzione la vediamo come una punizione come la vediamo questa correzione in verità la correzione se siamo veramente nello spirito come abbiamo letto giovedì se camminiamo nello spirito la correzione è amore come qui vediamo perché dice che coloro che correggano sono i genitori che ci amano quindi se ci correggano perché lo fanno per farci sentire frustrati per reprimerci perché loro vogliono essere superiori no se ci correggano è perché desiderano che vedano in te quel proposito quel chiamato e vedano quelle cose che sono storte e che magari anche vengano da un DNA per questo loro lo vedano perché sono superiori spiritualmente a noi e quindi quella correzione è buona per noi è amore dobbiamo coglierla non dobbiamo risentirci non dobbiamo ribellarci ma dobbiamo permettere che quella correzione modelli il nostro carattere modelli il nostro sentimento io mi ricordo alla mia età oggi vi apro siamo fra di noi oggi ce lo possiamo permettere come oggi io quando ero adolescente incominciavo con tante responsabilità insomma all'interno della famiglia però c'è stato dei momenti in cui non è che ero proprio d'accordo con tutto quello che stava succedendo in famiglia e quindi ogni tanto partivano i cinque minuti come mi partiva i cinque minuti la mia mamma era subito pronta con il battipanni o col cucchiaio o con la ciabatta non lo so una sveltezza che proprio arrivava sempre no? come diceva anche una volta Pastor Joe l'ha detto no? i genitori sono proprio lì subito pronti e quel battipanni del mio tempo la mia mamma usava il battipanni no? ecco l'ho sentito in tutti i punti perché? perché magari io cercavo di sviarmi però lei però io ringrazio a Dio a quel battipanni a quella correzione perché veramente permetteva di farmi capire che quello che stavo facendo non era corretto e se non c'è quella correzione tu forse non ti rendi conto cresci per la strada così come viene così quello che senti così quello che che dici così quello che che vuoi fare ma se coloro che sono stati messi a fianco a te e per primo ci sono i nostri genitori e poi quando passiamo nella famiglia spirituale ci sono i nostri leader e noi abbiamo un'attitudine di umiltà di poter comprendere che quella correzione è buona anche se all'inizio abbiamo visto non è che ci piace non è che provoca gioia provoca tristezza ma se tu dice sostieni quella correzione cioè rimani lì nel processo nella corsa nel cammino nell'andare avanti se tu sostieni quella correzione Dio permetterà di trasformare il tuo carattere e sostituire il carattere di Daniela nel carattere di Gesù Cristo sostituire i sentimenti di Daniela nel sentimento di Gesù Cristo c'è una formazione nella corsa c'è un percorso c'è un processo non c'è solo il traguardo o la vittoria quello deve essere da stimolo da speranza che tu arrivi lì ma nel mentre c'è un processo resistiamo in quel processo perché lì Dio vuole formarti d'accordo al suo proposito che forse tu nel momento della corsa non lo sai ma apprezza ogni cosa che Dio vuole dirti attraverso le circostanze le situazioni i tuoi servi coloro che Dio ha messo davanti a te con quello spirito di veramente voler imparare di umiltà lì quella è formazione e Dio vuole veramente portarti a poco a poco a un traguardo meraviglioso per la tua vita amèn amèn ora noi siamo da soli no amèn perché perché se versetto 2 teniamo gli occhi su Gesù lui ha compiuto ogni cosa per mezzo della sua fede la nostra fede viene come fortificata in lui amèn non siamo da soli c'è la sua presenza c'è la sua vittoria lui è dentro di noi ed è quella presenza che ci permette di vivere quella corsa no nella nostra umanità anche se siamo umani ma lui permette che quella forza umana sia fortificata nella sua forza amèn perciò rinfrancate le mani cadenti versetto 12 e le ginocchia vacillanti e fate dei sentieri diritti per i vostri piedi affinché ciò che è zoppo non diventa slogato ma sia piuttosto risanato amèn quindi noi dobbiamo veramente permettere eh che quando possiamo cadere o c'è circostanza o situazione in cui ci possiamo fare male subito possiamo essere guariti subito possiamo andare alla parola subito possiamo avere comunicazione con i suoi servi subito dobbiamo intervenire affinché non ci siano strascichi eh nella corsa che possa poter ostacolare il tuo obiettivo il tuo cammino amèn procacciate la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore amèn il Signore veramente ci insegna no? e come abbiamo visto in Galati dove Lui è la nostra pace il suo Spirito Santo è la nostra pace il suo Spirito Santo è la vita il suo Spirito Santo è la gioia il suo Spirito Santo è la forza e quando camminiamo nello Spirito Santo noi siamo sostenuti da Lui e possiamo sentire che non siamo soli ma abbiamo bisogno come abbiamo visto giovedì di voler far sì di camminare con Lui quindi dobbiamo cercare le cose di lassù dobbiamo far sì di praticare e osservare i Suoi comandamenti perché se noi osserviamo i Suoi comandamenti volontariamente questo provocherà forza e gioia dentro di noi perché è la Sua presenza che accompagnerà l'obbedienza a ciò che Lui ti dice di fare amèn e c'è e c'è gioia e questo lo troviamo in Giovanni 15 10 11 vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia piena posso avere il 10 10 e 11 se osservate i miei comandamenti dimorerete nel mio amore come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore vedete che c'è una conseguenza cioè Gesù ha aperto la via dice se osservate i miei comandamenti dimorerete nel mio amore il suo amore regna dentro di noi come io c'è una conseguenza di quello che lui già ha fatto come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimora nel suo amore lui ha aperto la strada lui ha aperto la via lui ha già sperimentato quello che lui ci sta consigliando oggi a noi per avere la sua stessa vittoria per raggiungere lo stesso traguardo per raggiungere lo stesso obiettivo non siamo quindi primi lui già l'ha compiuto non siamo soli perché se osserviamo i suoi comandamenti non se dobbiamo osservare vero posto ormonico ma se vogliamo osservare osserviamo con volontà se osserviamo i suoi comandamenti saremo nel suo amore e il suo amore ci sostiene e il suo amore ci dà forza il suo amore ci fa alzare lo sguardo il suo amore ci fa guardare a lui il suo amore ci fa guardare alle sue promesse il suo amore è il suo amore che ci mantiene allo sguardo a lui e non ci fa guardare alla circostanza alla sua situazione alla situazione naturale il suo amore non ci affettano quando gli altri ci prendono in giro ci isolano il suo amore permetterà di poter comprendere che loro non hanno il suo amore il suo amore sopporterà come lo ha sopportato Gesù il vituperio e la vergogna perché? perché ti dà una consapevolezza che loro non hanno l'amore di Dio e quindi se quello che fanno e quello che dicono è perché non hanno l'amore di Dio e non comprendono il tuo amore ti darà la forza per sopportare il suo amore ti darà la forza per sopportare il suo amore ti darà la forza di correre il suo amore ti darà la forza di osservare i suoi comandamenti andando incontro a tutto quello che dice intorno a te è il suo amore verso di te dentro di te che tu lo sentirai così forte che tu dirai no no io non mi piego a questo no no io non lo voglio fare questo no no a me non interessa questo inizi a scartare ma non perché tu vuoi essere come al giorno d'oggi vogliono emergere no ma perché la tua priorità è conservare quell'amore e sai che se tu osservi i suoi comandamenti dimori nel suo amore amen è custodire quel suo amore dentro di te perché sai che se ti pieghi all'influenza di determinate circostanze o di determinate persone tu contamini quello che c'è dentro di te e quindi devi decidere per il tuo bene di non voler essere influenzato da ciò che ti porta via dal suo amore e dall'osservare i suoi comandamenti amen amen e quindi quando ci pesa è perché lo facciamo con le nostre forze e veniamo di conseguenza meno ma se noi comprendiamo nel versetto 15 badando bene che nessuno rimanga privo della grazia di Dio e che non spunti alcuna radice di amarezza che vi dia molestia e attraverso la quale molti vengano contaminati amen dobbiamo permettere che nella corsa se ci sono contese disguidi di non permettere che quella amarezza possa rimanere nel nostro cuore lascia perdona come tu ricevi amore da parte di Dio perdona lascia quella amarezza quella amarezza porta tristezza quella amarezza ti fa rallentare la corsa quella amarezza non ti fa vedere le cose come Dio vede ma ti fa vedere le cose come il nemico vuole che tu lo vede per farti rallentare per non raggiungere l'obiettivo per non correre la corsa per non raggiungere la salvezza dei tuoi cari per non raggiungere la famiglia per non raggiungere quel sogno quel desiderio che Dio ti ha dato nel tuo cuore lascia l'amarezza lascia lascia tutto quello che può essere ostacolo di quello che invece fa parte l'amore di Dio per raggiungere quell'obiettivo amè e non vi sia alcun fornicatore profano come Esau che per una vivanda vendette il suo diritto di primigenitura amè conserviamo il valore veramente dei principi da parte di Dio e che siamo veramente ripieni della sua grazia perché è solo attraverso la sua grazia come oggi c'è una presenza meravigliosa del suo Spirito Santo non è per uomo non è per donna ma è per la sua grazia è per il suo Spirito Santo è per quello che lui è è perché la sua parola è perché la sua presenza non è per noi camminiamo sotto quella grazia cerchiamo con tutto il nostro cuore la guida dello Spirito Santo perché è lì che vivremo con quella pace è lì che vivremo con quella pienezza e quella abbondanza della sua parola amè e quando noi camminiamo con quella gioia quando noi camminiamo con quell'amore siamo di ispirazione agli altri perché perché nulla ci ferma il nostro obiettivo è mantenere costudire quell'amore fare la sua volontà e correre e quando noi corriamo e non permettiamo che l'altro possa influenzarci c'è qualcuno che ti sta guardando e sta vedendo la tua corsa e dice anche io voglio correre anche io voglio essere perseverante anche io voglio camminare e correre come lui fa come lei fa e conosce a quel punto qual è la chiave che è l'amore di Cristo e questo permette di far sì che possiamo insegnare agli altri quello che abbiamo imparato noi possiamo veramente dice che la parola è ispirata eh per poter insegnare in seconda Timotio 3,16 17 e concludo tutta la scrittura è divinamente ispirata e utile a insegnare a convincere a correggere a istruire nella giustizia affinché l'uomo di Dio sia completo pienamente fornito per ogni buona opera amén quando noi abbiamo quella vittoria di Gesù e sperimentiamo nella corsa che osservare i suoi comandamenti rimanere perseveranti e costanti raggiungiamo quella gioia che persiste al di là di quelle che siano le situazioni le circostanze qual è il nostro desiderio è di amare gli altri come noi stessi qual è il nostro desiderio è di dare agli altri ciò che abbiamo noi è di insegnare per la sua parola quello che abbiamo raggiunto per far sì che anche altri la possono raggiungere e quindi ci verrà spontaneo di poter condividere la nostra gioia di poter condividere il nostro amore di poter condividere la nostra esperienza che abbiamo avuto con Gesù perché sappiamo che è quello che ci ha reso completi e il nostro desiderio è che così sia fatto non solo per noi ma anche agli altri amén 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 vogliamo veramente ringraziare il Signore e vogliamo veramente concludere in questo giorno chiedendo che lo Spirito Santo sia attivo dentro di ognuno di noi per mantenerci saldi per mantenerci perseveranti per cercare il suo proposito la sua meta finché siamo fermi nelle sue promesse e possiamo iniziare quella corsa possiamo iniziare quel cammino quella corsa di fede per poter raggiungere quegli obiettivi che Lui ci ha messo davanti qual è il tuo obiettivo in questo giorno di raggiungere la tua famiglia la salvezza una guarigione un miracolo un lavoro un sogno una visione che ti ha dato il Signore che l'hai condivisa con i tuoi servi e che hanno detto che questo viene da Dio ma non sai da che parte iniziare vogliamo oggi alzarci e veramente poter iniziare la nostra corsa insieme per poter rimanere saldi e camminare nella fede guardando a Gesù l'autore compitore della nostra fede e che Lui già ha vinto ogni cosa e se hai un peso oggi se ti senti stanco il Signore desidera rinnovarti il Signore desidera dirti non sei solo in questa sfida non sei solo in questa difficoltà non sei solo in questa circostanza non sei solo io sono con te lascia ogni peso a me viene a me oggi leggi la mia parola guarda a me io ho già vinto quella situazione e quella circostanza il Signore oggi vuole incoraggiarci per attivarci e iniziare un nuovo giorno nuovo tempo una nuova stagione in Lui in vittoria Amen